Come procede questo ritiro? Bene, allenando molto, spero che la squadra sta bene, con molta voglia di allenarsi, quindi siamo felici qua. Il calore sui spazi si sente anche qua a Morena da parte dei tifosi? Sì, per quello, tutta la squadra voleva ringraziare a tutti voi, sappiamo il sforzo che fate per venire qua con i bambini.